La cosa che mi premeva dire è che siamo riusciti noi a coinvolgere più di 250 professionisti e oltre a questi 250 professionisti abbiamo coinvolto anche gli ordini professionali che ci sono dietro, quindi di conseguenza è diventata una manifestazione che racchiude in sé tutta una serie di categorie che si incontrano su un campo di calcio. Quando si arriva su un campo di calcio, come dice uno spot, siamo tutti uguali e quindi di conseguenza ci siamo divertiti e un'altra cosa che mi preme sottolineare è che nonostante ci siano dei ragazzi più giovani e delle persone un pochettino più anziane a giocare, quest'anno abbiamo avuto un solo infortunato che era guarda caso un giornalista, per cui praticamente possiamo dire che il bilancio è positivo e speriamo di concludere il migliore dei modi allo Stadio Adriatico con una bella festa. La più grande vittoria è quella della solidarietà, lì ci siamo riusciti perché insomma se quattro anni fa abbiamo iniziato con un'adozione a distanza nel percorso di questo evento è stato chiaramente implementato con l'anno scorso, aiutami a fretta se ben ricordo, con l'associazione Autismo Abruzzo e quest'anno oltre questi si affiancherà quello di clown doc che riguarda chiaramente il nostro ospedale civile di Pescara. Quindi veramente dobbiamo farci complimenti tutti indistintamente per questa bella manifestazione appunto che vedrà la giornata conclusiva di sabato sperando come diceva che non ci sia tutto questo caldo torido perché noi ci difendiamo però comunque voglio dire avranno un bel da fare. A proposito di questo Antonino ti volevo chiedere la finale vedrà di fronte i medici contro avvocati, chi vedi favorito? Vedo favorito più gli avvocati perché li ho visti giocare insomma nonostante noi ci abbiamo vinto con gli avvocati, noi ingegneri però la più grande soddisfazione per noi è quella di aver superato gli amici nemici architetti a parte gli scherzi. I medici sono una grande squadra, sono una squadra giovane rispetto agli avvocati ecco però voglio dire poi la partita secca è quella che insomma che si decide sul campo fino all'ultimo minuto insomma. Daniele Astolfi nel doppio ruolo di organizzatore di questa bella manifestazione ma anche di tecnico dei giornalisti Ussi e voi farete sabato tra l'altro la finalina di consolazione? Sì purtroppo sì anche se bisogna dire che è veramente una grande soddisfazione esser tornati protagonisti perché due anni fa abbiamo vinto proprio questo bel torneo e noi disputeremo la finale del terzo o quarto posto con gli amici del movimento turismo vino e anzi colgo l'occasione per salutare il nostro carissimo patron chiamiamolo così dottor Giuseppe Colantonio che l'anno scorso ha vinto proprio il torneo la terza edizione. Siamo finalmente alla quarta le cose procedono veramente molto bene siamo estremamente soddisfatti dicevo appunto perché se ne sta parlando. Noi come ente ci siamo occupati più dell'aspetto organizzativo del torneo abbiamo dato una mano agli organizzatori per quanto riguarda la terna arbitrale per i risultati delle partite per il calendario. Un'esperienza sicuramente da rifare state già pensando alla quinta edizione. Esatto esatto speriamo che per il futuro e per le prossime edizioni si possano aggiungere altre compagini a già le altre otto che sono presenti nel torneo e il connubio ASI e il torneo delle professioni diciamo che ha funzionato alla grande.